Questa piccola collezione si ispira alla fusione di due elementi ben distinti, il trend del momento, il concetto della contemporaneità che prende in esame gli anni 90, le sue linee e i propri volumi. In questo progetto lo stilista omaggia la cantante afro-britannica Seida Du e il suo stile che determina un'innata classe ed una sofisticata femminilità. Gli abiti sono costruiti sulla linea a sirena che da sempre contraddistingue la figura della cantante e i taglier, i tubini e gli abiti da sera di questa collezione sono arricchiti di taglie strutturati che esaltano il fisico. Sono realizzati in tessuto cadi di seta, lavorato mediante plissettatura verticale che ricorda le scanalature delle colonne doriche dell'architettura greco-romana. Signore e signori, la collezione di Stefanacci Federico! Signore e signore! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti